Saranno 11 assistenti sociali, 12 amministrativi informatici e 2 psicologi, le unità che andranno a potenziare i servizi di segretariato sociale, di presa in carico e gli interventi sociali rivolte alle famiglie destinatarie del SIA-REI. Così il Comune di Foggia annuncia i rinforzi del piano sociale di zona, una risposta di dignità concreta alla crisi occupazionale, utilissima a rafforzare e rendere più efficace il lavoro delle strutture tecnico-professionali comunali. Commenta l'assessore Erminia Roberto, contro cui si scaglia il consigliere comunale Giuseppe Meniero. Quello che invece è grave, che non dice l'assessore nella nota, è che lei insieme all'assessore personale e all'istruzione ha smantellato il sistema dei nostri servizi sociali, laddove attraverso il cambio del profilo professionale, le cosiddette educatrici e molte nostre assistenti sociali, sono state trasformate in imbiegate, sono state spostate ai ruoli amministrativi. Il mio timore è che forse, probabilmente, qualcuno pensa di poter dirottare, ovviamente saremo molto attenti perché ciò non accada, queste unità su attività non previste dal progetto e quindi dalla loro assunzione. Rimane aperta, tra l'altro, la questione legata alla durata del contratto, passato da 24 ad 11 mesi e per cui si prevedono ricorsi. La dirigente Mare Rosaria Bianchi, al Tg Blu, sostiene di aver rispettato per tempo tutte le procedure segnalate dalla Regione e che i disguidi non sarebbero imputabili al Comune. Questo è un problema, vedremo se è un problema tecnico oppure se è stata una scelta della nostra struttura amministrativa attraverso i suoi funzionari e qual è la ragione per la quale abbiamo fatto questa scelta.